Alexa raccontami il sommario di oggi. Ecco le ultime notizie dal tuo sommario quotidiano. Da Ricettiamo. Da oggi è facilissimo scoprire le nuove ricette di Ricettiamo. Chiede ad Alexa di leggerle per te. Scarica sul tuo dispositivo Alexa la skill di Ricettiamo e chiedigli di raccontarti il sommario di oggi tutti i giorni. Pubblichiamo nuove ricette o videoricette. Scoprire le ricette del giorno è facilissimo. Chiede ad Alexa di raccontartele. Dividere i tuorli dagli albumi. Montare a neve gli albumi e lasciarli da parte far ammorbidire il burro e incorporarlo ai tuorli con lo zucchero e lavorare fin quando non diventa spumoso. Aggiungere la ricotta e incorporare il tutto. Amalgamare bene il composto. Prendere gli albumi ed incorporarli dentro, aggiungendo farina e latte. In una teglia rotonda e imburrata versare l'impasto aggiungendo il cioccolato sminuzzato. Infornare a 180 gradi, forno statico, nel ripiano basso per 30 minuti.